Buonasera a tutti, oggi è il 31 marzo, sono sempre il vostro inviato da Parigi, guardate qua dove sono, sono davanti al Louvre, questo piccolo museo dove ospitano la Gioconda e anche altre piccole cose e con noi c'è un ospite speciale. Oggi è la prima giornata di sole da quando sono arrivato a Parigi e volevo semplicemente dirvi che sono un uomo molto felice. Saluti! Ciao!